Storia di Iqbal, capitolo 2 La casa di Hussein Khan, il padrone, si trovava alla periferia di Lahore, tra la polvere e la campagna bruciata, dove pascolavano le greggi scese dal nord. Era una casa grande, metà in muratura e metà in lamiera, con un cortile centrale sporco e disselciato, dove c'erano il pozzo, il suo vecchio furgoncino Toyota, la tettoia di canne che riparava le balle di lana e di cotone e, in fondo, seminascosta dai rovi e dalle erbe selvatiche, la porta di ferro arrugginito che con una rapida scala portava giù nella tomba. La fabbrica di tappeti era sotto le lamiere e ci faceva caldo d'estate e freddo d'inverno. Il lavoro cominciava mezz'ora prima dell'alba, quando la moglie del padrone scendeva in vestaglia e babbucce e attraversava il cortile, nella luce incerta della notte che finiva, per portarci una forma rotonda di pane e ciapati e un po' di dai o di crema di lenticchie. Mangiavamo avidamente, intingendo il pane nella grande ciotola comune appoggiata sul pavimento di terra e intanto parlavamo fitto fitto tra di noi e ci raccontavamo i sogni che avevamo fatto quella notte. I sogni, come mi diceva la nonna e dopo di lei mia madre, stanno in una parte del cielo sconosciuta, così lontana che noi non possiamo neanche immaginare e scendono nel mondo quando gli uomini li chiamano e possono portare dolore o consolazione, gioia o sconforto o anche, certe volte, essere assolutamente stupidi e non portare un bel niente. Anche se non è detto che un uomo malvagio chiami a sé sogni malvagi e un uomo stupido sogni stupidi, perché chi siamo noi per pretendere di capire che cosa governa le cose del cielo? Ma una cosa è certamente brutta, diceva la nonna, ed è non ricevere più sogni, perché è un po' come non ricevere più la benevolenza di qualcuno che è lontano, sì, ma tuttavia ci pensa. Io non sognavo da molti mesi e molti di noi non sognavano più, ma avevamo paura a confessarcelo. Al mattino ci sentivamo così soli e allora ce li inventavamo ed erano sempre sogni belli, pieni di luce e di colore e di ricordi di casa per chi ancora ne aveva. Facevamo a gara chi ne inventava di più fantasiosi, parlando in fretta, con la bocca piena, fino a quando la padrona non ci diceva basta adesso, basta, e allora potevamo raggiungere il gabinetto alla turca nascosto in fondo allo stanzone, dietro un tendaggio lercio, uno per volta. Per primi andavano quelli che avevano dormito incatenati per la caviglia al telaio, le teste di legno, come li chiamava il padrone, quelli che lavoravano poco e male e che confondevano i fili colorati delle trame, che commettevano qualche errore nel disegno del tappeto, questa era la cosa più grave, o che frignavano per le vesciche sulle dita. Le teste di legno erano stupide. Lo sanno tutti che in questi casi basta prendere il coltello che usiamo per raschiare i nodi e incidere le bolle. Esce l'acqua e per un po' fa male, ma con il tempo la pelle ricresce e si indurisce e poi non senti più niente. Bisogna saper aspettare. A noi non incatenati, le teste di legno un po' facevano pena, un po' li prendevamo in giro. In genere erano quelli nuovi arrivati da poco che non avevano ancora capito che l'unico modo di ritornare liberi per noi era di lavorare molto il più in fretta possibile e di cancillare i segni in gesso sulla nostra lavagna, uno alla volta, fino a quando non ne sarebbe rimasto neanche uno e allora si tornava a casa. Anch'io, come tutti, avevo la mia lavagna appesa sopra al telaio. Il giorno che ero arrivata, tanti anni prima, Usain Khan, il padrone, aveva preso una lavagna pulita, ci aveva tracciato sopra dei segni e mi aveva detto «Questo è il tuo nome?» «Sì, signore. Questa è la tua lavagna. Nessuno può toccarla, solo io. Hai capito?» «Sì, signore. Poi aveva tracciato molti altri segni, uno accanto all'altro, dritti, come i peli sulla schiena di un cane impaurito e ogni gruppo di quattro segni era tagliato da un altro e io non capivo. «Sai contare?» mi aveva chiesto il padrone. «Quasi fino a dieci», avevo risposto. «Guarda», mi aveva detto Usain Khan, «questo è il tuo debito». Ogni segno è una rupia. Io ti darò una rupia per ogni giorno di lavoro. È giusto? Nessuno ti pagherebbe di più. Tutti possono dirtelo. Chiedilo a chi vuoi. Tutti ti diranno che Usain Khan è un padrone buono e giusto. Avrai quello che ti spetta. e ogni giorno al tramonto io cancellerò uno di questi segni davanti ai tuoi occhi e tu potrai essere orgogliosa e anche i tuoi genitori saranno orgogliosi perché sarà il frutto del tuo lavoro. Hai capito? «Sì, signore», avevo risposto un'altra volta. Ma non era vero. Non avevo capito e guardavo quei segni misteriosi, fitti come gli alberi di una foresta e non riuscivo a distinguere il mio nome dal debito. Quasi fossero la stessa cosa. «Quando tutti i segni saranno cancellati», aveva aggiunto Usain Khan, «quando vedrai questa lavagna completamente pulita, allora sarai libera e potrai tornare a casa». Non ho mai visto quella lavagna pulita e neanche quelle dei miei compagni. Dopo che le teste di legno erano ritornate dal gabinetto dietro la tenda ed erano state di nuovo incatenate al loro posto di lavoro potevamo andarci noi liberi a fare i nostri bisogni e a spruzzarci un po' di acqua in faccia. C'era una finestrella là dietro, posta in alto e si intravedevano i rami fioriti di un mandorlo. Tutti i giorni mi fermavo un minuto più del dovuto e cercavo, spiccando grandi balzi disperati, di aggrapparmi al logoro telaio di legno e di essarmi su in modo da poter vedere fuori. avevo dieci anni allora ed ero piccola e minuta lo sono ancora oggi e non riuscivo neppure a sfiorare con le dita il bordo della finestra. Eppure ogni giorno mi sembrava di essere arrivata un po' più in alto magari di un niente di un millimetro ed ero sicura che presto sarei riuscita a salire fin lassù e a sporgermi attraverso quella piccola apertura fino a toccare la corteccia del mandorlo. Non so perché dessi tanta importanza a una cosa così inutile e sciocca ma mi sembrava allora che fosse una specie di passo verso la libertà o qualcosa di simile. non era vero naturalmente mi sarei solo ritrovata nel giardino della casa accanto e la moglie di Usain Khan sarebbe venuta a riprendermi agitando la sferza e gridando piccola stracciona piccola vipera ingrata sarei finita per tre giorni nella tomba forse anche per più tempo ecco cosa sarebbe successo eppure ci provavo ogni mattina. Lavoravo per Usain Khan da tre anni e non ero mai finita nella tomba all'inizio qualcuno degli altri bambini invidioso diceva che ero la preferita di Usain e che per questo non mi puniva non era vero non ero mai stata punita perché lavoravo svelta e bene mangiavo quello che mi davano senza protestare e alla presenza del padrone stavo zitta non come certi che rispondevano anche se sì qualche volta il padrone mi si avvicinava e mi accarezzava davanti a tutti e mi chiamava piccola Fatima la mia piccola Fatima e io dentro tremavo tutta e non capivo bene e avevo paura e avrei voluto sparire e nascondermi Usain Khan era grasso con la barba nera e gli occhi piccoli e le sue mani erano come ricoperte da una patina d'olio di palma e lasciavano un segno di unto dove ti toccavano certe notti quando ancora sognavo immaginavo Usain Khan che camminava nel buio e veniva fino al mio giaciglio accanto al telaio sentivo il suo respiro pesante e l'odore di fumo della sua giuppa sentivo la terra polverosa del pavimento scricchiolare sotto i suoi passi veniva da me e mi accarezzava sussurrando piccola Fatima il giorno dopo nascosta dietro la tenda lercia in fondo allo stanzone mi controllavo tutto il corpo per vedere se c'erano tracce di unto non ce n'erano era stato solo un incubo di quelli che fanno i bambini quando sono spaventati il lavoro cominciava con il sorgere del sole la padrona batteva le mani tre volte ciascuno di noi si sedeva davanti al suo telaio e dopo un attimo cominciavamo a farli funzionare tutti insieme in sincronia come se a muoverli fosse stato un unico paio di braccia durante il lavoro era proibito fermarsi parlare distrarsi potevamo guardare solo le mille spole di filo colorato tra le quali scegliere quella giusta per comporre il disegno del tappeto che ci era stato affidato confrontando il disegno che andavamo componendo con quello che ci aveva dato il padrone su un pezzo di carta appiccicato accanto a noi con il passare del tempo l'aria si riempiva di calore e di polvere e di filacce di lana e il rumore dei telai era così forte e cadenzato che quasi copriva la voce della città che si era svegliata e si metteva in moto i motori delle vecchie automobili e dei furgoncini carichi di merci il ragliare degli asini già impuntati sugli zoccoli al mattino presto le grida degli uomini il richiamo del venditore di tè il vociare del vicino mercato il rumore cresceva con lo scorrere del giorno mentre la ore si riversava nelle strade e a me facevano male le braccia e le spalle e allora giravo la testa un attimo verso la porta che dava sul cortile e sul sole e non sapevo quanto mancava all'unica pausa della giornata e le mie mani e i miei piedi lavoravano da soli per abitudine afferravano i fili stringevano i nodi manovravano i pedali e poi ancora e ancora mille altre volte e mi si è formata un'altra bolla fa male ma non importa perché questa sera Usain Khan misurerà il mio lavoro giudicherà se va bene se è fatto con cura e poi cancellerà un segno dalla lavagna una rupia per ogni giorno di lavoro sono tre anni che cancella e quei segni sono ancora tutti là o almeno a me pare così certe volte mi sembra addirittura che siano aumentati ma questo non è possibile i segni in gesso sulla lavagna non sono come le erbe cattive dell'orto di mio padre che crescevano da sole in una notte e mandavano in malore il raccolto alla pausa per il pranzo ci trascinavamo fuori in cortile intontiti dalla fatica ci sedevamo al sole attorno al pozzo a mangiare il nostro ciapati con le verdure e a bere acqua perché avevamo la gola piena di lana pochi avevano ancora la forza di parlare di ridere o di cercare di giocare con due pezzi di legno o quello che c'era il riposo durava un'ora la fame molto più a lungo poi noi rientravamo nel laboratorio mentre Usain Khan e la moglie si ritiravano in casa per sfuggire all'afa del pomeriggio potevano anche non sorvegliarci per qualche ora nessuno aveva il coraggio di scappare e non potevamo non lavorare la sera il metro da sarto del padrone avrebbe misurato fino all'ultimo centimetro come avevamo trascorso quel tempo poco lavoro niente rupia lo sapevamo così era trascorsa la mia vita negli ultimi tre anni non speravo più niente e anche gli altri credo non speravano in niente i primi mesi pensavo spesso alla mia famiglia a mia madre ai fratelli e alle sorelle alla mia casa alla campagna al bufalo che tirava l'aratro ai dolci laddu con farina di ceci zucchero e mandorle che mangiavamo alla festa ma con il passare del tempo anche questi ricordi si erano sbiaditi come la trama di certi tappeti su cui si è camminato troppo a lungo fino al giorno in cui comparve Iqbal e con lui la libertà che si è camminato che si è camminato che si è camminato